La siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura per effetto del calo dei raccolti che hanno bisogno dell'acqua per crescere e secondo uno studio realizzato da Coldiretti sui dati dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un quarto del territorio nazionale è a rischio desertificazione e il problema riguarda sia le regioni del sud che quelle del nord e del centro come l'Abruzzo, dove tutte le aree sia costiere che interne stanno risentendo della carenza idrica. Il grano fa segnare quest'anno un calo di almeno il 15% delle rese, ma in difficoltà ci sono girasole, mais e altri cereali, i foraggi per l'alimentazione degli animali, ortaggi e frutta che hanno bisogno di acqua per crescere, spiega il presidente di Coldiretti Abruzzo Silvano Di Primio, quale oggi in occasione della giornata mondiale dell'ONU per la lotta a desertificazione e siccità, torna a chiedere al governo e alla regione di risolvere i problemi legati alle reti idriche con la Brodo e ai commissariamenti dei consorsi di bonifica. Noi abbiamo una risorsa che è quella dei nostri appenni, che sono montagne che comunque ricevono ancora nevicate invernali, per cui l'acqua c'è ma dobbiamo tutelarla in qualche maniera, quindi stoccarla nei momenti in cui l'abbiamo per poi utilizzarla per qualsiasi uso agricolo e anche, perché no, idroelettrico. L'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, insieme alla Coldiretti, ha progetti cantierabili, cioè domani mattino noi potremmo cominciare a costruire questi laghetti collinari per l'accumulo di questa risorsa idrica. Noi sono anni che parliamo con la regione per il rinnovo delle cariche dei consorsi di bonifica. Abbiamo cinque consorsi in Abruzzo, tutti e cinque commissariati. Il commissario non può altro che fare quello che è l'amministrazione normale, non può assolutamente fare lo straordinario. Quindi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo con forza il rinnovo delle cariche, quindi le elezioni ai consorsi di bonifica. Probabilmente entro l'anno riusciremo a farlo e quindi con la nuova amministrazione potremo comunque iniziare le attività di sviluppo in questo senso.